L'entusiasmo per questo panino era enorme, noi lo pesavamo 1,3-1,4 kg ogni panino, ma chiaramente the winner is, l'unico che ha finito il piatto è lui, Panavalon, l'unico in grado di finire 1,3 kg di hamburger con formaggio, fuso, cipolla, maionese, aglio e chi più ne ha per le 20. Oh wow! L'entusiasmo per questa macchina, è meglio così. Sì? Non? Una persona per l'arbitante. Oh, non, non, non. No? 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 Io non ho capito bene, però la situazione è stata parecchio complicata a un certo punto perché non ci vuoi più niente. Facciamo l'ultimo selfie e ce l'andiamo a cambia. Più stretti? Di te Barbermind, un, due, tre... Barbermind! Barbermind! Giornata terminata, adesso dove si va? Ora si va, posso dirlo? Sì, puoi dirlo, qua puoi dirlo. Andiamo a fare un giro al centro commerciale molto grande qua, il più grande di Santiago del Cile e poi andiamo a tatuarci. Loro si tatuano, io no. Cos'è? Scusi, stiamo andando sui tatuaggi dell'amico di... non vedo come si chiama... di José. Ci tatueremo parcosina per il ricordo del Cile. Nel frattempo, qua tutti quanti possono accompagnare solo. Dopo vi faremo vedere che cosa è uscito fuori. Nel frattempo, Santiago del Cile è tutto. Ore 19.15, ora locale, 30 gradi centigradi. Noi vi salutiamo, ci vediamo presto. Dovevo tornare in hotel e volevo tatuarmi ma... Adesso vediamo. Da in ansia. Mi sento già male, già mi fa male la pelle. Questa. La nuova scuola con la old scuola, la vieja scuola della barberia. Grazie.